1 Alessandro Favaro, CrossFit D, salto a ruore 2018, categoria a segno Bilanciare da 20 kg Disco da 2,5 Disco da 25 25 e 2,5 Bilanciare da 20 kg Disco da 25 Pesatini per lo snatch Poi dopo tanto di rifilm E da, raga, ho schiacciato la magnesia, che puttana merda Tu la usavi quella lì? Ok, adesso te ne... Me ne prendi un'altra? Venti Sì Quale? O più indietro? Vengo qua Beh, vengo qua Pedro dimmi te 5 secondi? Ok, quando l'hai 5 Dimmelo 6 5 1 1 2 2 2 4 4 5 7 5 6 8 9 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 12 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 28 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 31 32 13 13 14 15 16 16 17 17 18 19 20 20 21 21 21 22 22 23 24 25 23 stai concentrato e non guardare 26 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 75 30 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 31 30 30 30 31 Grazie. 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 Sì. Dai eh. Sì. Un 5 e un mezzo. Un 5 e un mezzo. 81. Sì. Sì. Sì Quanto? 83 83 Scusate Sì Sì Sì, facile, bravo Sì 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 15 10 5 3 2 1 via 3 4 6 9 10 10 11 12 12 13 14 15 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 16 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 18 19 19 19 18 19 19 19 20 19 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 30 secondi dai non mollare non mollare dai 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 tutto quello che hai 4 20 dai 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 gli ultimi 20 secondi dai 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 che ne fai ancora uno dai ancora uno, ancora uno BTS dai! forte! Cosa devo fare?